Grande affermazione per la Ippon Karate Lentini di Sciacca che ha preso parte alla gara di circuito internazionale VKF che si è tenuta in Croazia. Alla manifestazione hanno partecipato in totale 19 nazioni, 228 squadre e 1631 atleti iscritti. È stata una competizione molto importante in preparazione dei prossimi mondiali di fine ottobre. Il team di Piero e Marco Lentini nel settore comité combattimento a contatto controllato ha conquistato due splendide medaglie di bronzo e anche un quinto posto con qualche rimpianto finale. A finire sul gradino più basso del podio sono state Irene Marturano nella categoria junior 59 kg e Andrea Danna nella categoria maschile junior fino a 61 kg. Al quinto posto Emma Colletti nella categoria junior fino a 48 kg. Niente da fare invece per Niccolò Alfano che non ha superato i primi turni. Grande soddisfazione per Marco Lentini che ha accompagnato gli atleti in Croazia a Rieca. Sempre per le arti marziali passiamo alla Karate Judo Club che si prepara alla trasferta del prossimo fine settimana in Lombardia. Sabato 1 e domenica 2 ottobre gli atleti seccensi saranno di scena a Desio per il quarto memorial di Karate Andrea Necufar. Per il comité in gara ci sarà Ignazio Raneli, mentre per il settore Catà ci saranno Francesco Restivo tra gli under 14 e Michele Catanzaro nella classe Master A. Ad accompagnare i ragazzi per l'appunto Michele Catanzaro nella duplice veste di istruttore e di atleta in competizione. Catanzaro è reduce dall'ottimo terzo posto nel Catà ottenuto a Torino, sempre tra i Master A. Catanzaro è un'ottimo terzo posto nel Catà ottenuto a Torino, sempre tra i Master A.